Ancora si placano le polemiche per la caduta dell'amministrazione comunale di Sulmona, proprio ieri c'è stato un intervento dell'ex sindaco Peppino Ranalli che ha parlato così a distanza di tempo, lei ha avuto modo di sentire anche l'intervento dell'ex sindaco, che giudizio ha di tutto quello che è accaduto? Il povero sindaco è patetico, patetico perché ha ascoltato i consigli del suo sodale Gerosolimo, ha azzerato l'aggiunta perché aveva avuto l'assicurazione che una volta azzerata l'aggiunta automaticamente se ne rifaceva un'altra con la partecipazione o col sostegno esterno. degli uomini suoi ma che erano passati con Gerosolimo, perché altra cosa da sottolineare è che molti consiglieri comunali sono stati eletti dal signor ex sindaco Ranalli e che sono passati all'altra parte. Nel momento in cui ha accettato l'azzeramento dell'aggiunta, subito dopo abbiamo assistito al patetico tentativo di rifarne un'altra, anche con la presenza di tecnici, e fatto oggettivo non è riuscito a fare un'altra giunta, nessuno ha voluto far parte dell'ex giunta Ranalle. Di conseguenza ritengo che il peppinuccio nostro sente e ha sentito, lo dico e lo ripeto, la sindrome di Stoccolma e quindi siamo arrivati a uno sfilacciamento della situazione politica e la situazione economica si è aggravata sempre di più. Grazie.